La piazza di spaccio, il centro storico, un dedalo di vicoli quasi inaccessibile dove l'organizzazione criminale aveva messo in piedi una fitta e strutturata rete. La direzione distrettuale antimafia di Catanzaro riaccende i riflettori sulla vendita di stupefacenti a Crotone, all'alba il blitz della polizia. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse, una ai domiciliari, notificati anche due obblighi di dimora. Le indagini rivelano l'organizzazione della vendita di grosse quantità di stupefacenti in città. Piramidale, ciascun componente aveva ruoli specifici, i profitti poi finivano in una cassa comune e venivano successivamente divisi tra i vertici dell'associazione, mentre agli altri indagati veniva assicurato un compenso. Cocaina, eroina, ascisce e marijuana richiamavano molti acquirenti. Nei tre punti di spaccio individuati dagli investigatori, l'anno di rivieni di persone era continuo a qualsiasi ora del giorno.